a proseguiamo questa prima giornata di casting amici sono mister rocco vi presento l'aspirante misto polini numero 12 esatto nome e cognome bello scandito chiaro chiaro allora nome maria annunzia cognome lucia proprio l'hai scandito bene perfetta allora quanti anni hai 26 li ho avuti un'età bellissima ok cosa fai di bello nella vita allora io mi sto laureando in geofisica di esplorazione petrolifera e a breve a settembre sono già laureata in geologia e sto prendendo questa specialistica in geofisica qui a trieste però sono lucana sono venuta qui per motivi di studio sei bravissima brava 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 come direbbe la maionchi breve breve allora senti allora tu dove sei abito a trieste abito a trieste però sono lucana lucana vince di potenza da quanto tempo vivi qua a trieste 2009 2009 città meravigliosa sì bella romantica esatto trottolina amoroso dududa da 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 sedi tu sei fidanzata sì ho trovato l'amore qui a trieste un mulo di trieste sì da quanto tempo eh no da poco tre mesi mamma mia proprio la passione allo stato pure quando dicono sì esatto allora la mia ispirazione è andare sulle navi di perforazione petrolifera cioè quello di cui mi sto occupando quindi perforare negli oceani e quant'altro quindi girare il mondo in nave e poi farmi una famiglia un domani sposarmi perché ho il senso materno quindi avere dei figli mi hai dato un colpo al cuore che bello sentire parlare una ragazza così d'altronde si sa che le cose belle della vita sono soprattutto quelle no i veri sentimenti sono quelli che rimangono i veri valori la famiglia il senso di continuità tramite un figlio sta prendendo una piega serissima queste interviste perché abbiamo una dottoressa è molto comunque allora senti sei molto simpatica grazie un grande senso dell'umorismo ed è una cosa che io apprezzo sempre moltissimo però ti sei scritta anche un concorso di bellezza quindi una ragazza con grandi aspettative come te come mai si è scritta un concorso di bellezza perché magari ti piacerebbe girare il mondo anche in veste di modello ti chiedo allora io mi sono iscritta per divertimento perché non mi sentivo molto aspirata ispirata a ciò perché mi reputo un po bassina e allora pensavo che il mondo del della moda pretendesse ragazze alte stilose allora quindi ho iniziato questa avventura così per divertimento per gioco tu sai che insomma all'altezza solo per quali però esatto che vuoi dire la va bene l'altezza per quanto riguarda la passerella però ci sono anche tante altre cose intorno alla moda sì magari book fotografici o altro ma ma di ma ma il tuo amoroso ti supporta in queste esperienze geloso si chiama lorenzo vabbè dai no ma capisce che è una bella esperienza per te dai allora quella è la telecamera adesso veramente puoi dirci e salutare chi vuole allora un caloroso saluto alla mia famiglia in basilicata saluto tutti i miei amici e un forte bacio al mio ragazzo sono curioso di sentire questo saluto in dialetto della tua lingua vediamo vai oddio è troppo forte sentiamo ma che è bello anche poter far sentire i dialetti dita vai ok allora saluto tutto quanto saluto tutta la famiglia mia vi voglio bene mi mancate e tante cose tanti baci e tanti baci grazie mille in bocca al lupo ok ciao